Musica Buongiorno a tutti, sono Serena Tarella, l'insegnante di sostegno dell'Istituto Comprensivo Aristide Gabelli di Vista Bianco. La scuola ha accolto il progetto Un Sole in classe per sensibilizzare il problema dell'inquinamento e sull'importanza dell'utilizzo delle energie rinnovabili. Buongiorno a tutti, sono l'insegnante Ficirosa e le classi che hanno partecipato a questo progetto sono le classi terza, quarta e quinta. I bambini hanno realizzato i disegni dove hanno evidenziato l'importanza delle energie rinnovabili. Il premio eventuale sarà utilizzato per sostituire le lampade della nostra scuola, temporizzare l'impianto elettrico e inoltre sostituire l'utilizzo delle bottiglie di plastica con l'acquisto di botanice. Ringraziamo Hunter e vi invitiamo a votare. Votateci! Votateci! Buongiorno Hunter, grazie al Sole in classe e a questa esperienza fantastica che ho svolto nell'Istituto Capelli Misteri Bianco e Stato Comprensivo con le classi terze, quarte e quinte, prima e seconda media. È stato possibile poi realizzare un progetto che hanno svolto le terze, quattro e quinte. Mi piacerebbe invitare tutti quanti voi a votare per questo sito che già ha energia rinnovabile sul tetto. Grazie! Votateci! 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 Grazie a tutti.